Una riunione di maggioranza del centrodestra cittadino per ribadire è una sorta di ricompattamento ma anche la necessità di maggiore collegialità nelle scelte amministrative dopo lo strappo avvenuto nell'aula di Palazzo di Città mercoledì scorso durante un lungo ed infuocato Consiglio Comunale e la querel politica di Andria e della maggioranza di centrodestra che dopo lo scontro tra il sindaco Giorgino e l'anima più critica, cioè il gruppo dei conservatori riformisti prova a ricompattarsi in un momento particolarmente delicato e di grandi cambiamenti soprattutto se si pensa a quanto sta accadendo a livello nazionale. Si è partiti alle 16.30 per finire attorno alle 20 con tutti i componenti della maggioranza presenti, qualche momento di tensione ma non troppi e naturalmente Cor al centro della discussione assieme all'assessore Sgaramella, attualmente indipendente, una riunione di maggioranza nata per ricucire lo strappo ma da cui si esce con un'unica certezza. I conservatori riformisti non sono fuori dalla maggioranza di centrodestra anche se valuteranno provvedimento su provvedimento in Consiglio Comunale prima di votare favorevolmente. Una lunga cronistoria delle vicende consumatesi sin dopo la vittoria delle elezioni amministrative per il Giorgino Bis sino ad arrivare all'ultimo Consiglio Comunale passando per un dialogo poco proficuo tra le forze in campo e qualche rivendicazione sopita ma che di tanto in tanto è emersa. E poi la questione assessorato. Pietro Sgaramella è attualmente indipendente dopo essere uscito formalmente dai conservatori riformisti che non hanno più rappresentanti in giunta. Dal momento del rimpasto in realtà non è più stato idiliaco il rapporto tra il partito e l'assessore sino alla rottura definitiva di giovedì scorso. Ora però la palla passa nelle mani di Giorgino che ha chiesto più volte durante la serata se lo stesso Sgaramella fosse o meno rappresentativo di Cor e che nessuno lo avrebbe immaginato quale assessore tecnico del governo cittadino. Il nodo della vicenda risiede sicuramente anche in questo passaggio essenziale. Se Sgaramella non è più rappresentativo di nessun partito oppure essendo stato nominato nelle fila di Cor, quale sarà il nuovo equilibrio in giunta? Il primo cittadino durante la riunione ci raccontano. Ha ribadito più volte la non volontà di modificare l'esecutivo. Anche se i numeri in consiglio restano risicati ed impietosi, la maggioranza su qualche provvedimento mancando i voti di Cor potrebbe avere il vantaggio di un solo voto ed il che sarebbe alquanto complicato.